Negli ultimi anni i videogiochi si sono evoluti al punto che alcuni videogiochi non sono neanche più videogiochi, sono dei mondi, sono dei mondi dentro il computer in cui è possibile giocare, ma dove è possibile anche fare altro rispetto al gioco. Alla fine si tratta di ambienti seppur digitali, virtuali, in cui si può entrare sotto forma di avatar e fare delle cose che possono avere un collegamento anche molto stretto con le attività scolastiche. Potete pensare ai mondi virtuali come a dei laboratori, ad una stanza che non sta nella scuola fisicamente ma che sta dentro il computer e che permette di fare delle cose che nelle stanze della scuola non sarebbe possibile fare. In particolare ci sono alcuni mondi virtuali che Indire in qualche modo segue da vicino. Uno è Edmondo, che in effetti è proprio un mondo virtuale sviluppato da Indire per la scuola e ci sono già tanti docenti e le loro classi che all'interno di Edmondo fanno dei progetti didattici. Ricostruiscono ambientazioni, progettano dei servizi in virtuale e delle mostre e altro ancora. In Edmondo si fa anche formazione ai docenti, è una forma di didattica in rete, di formazione in rete diversa da quella classica del web. E poi c'è un altro mondo virtuale che Indire segue da vicino che è Minecraft. Probabilmente sapete già di quello che sto parlando perché Minecraft è un videogioco molto diffuso tra i bambini. Chi lo ha visto sa che si tratta di un mondo molto, in qualche modo, semplificato, fatto di cubetti. Ma è proprio questa semplicità che permette a bambini, anche molto piccoli, di poter progettare e costruire delle cose in un mondo virtuale. È quello che hanno fatto molti docenti anche nel precedente anno scolastico ed è quello che vorremmo fare a didacta quest'anno in due workshop distinti. Uno per Edmondo, che per certi versi si presta più ad un'età maggiore degli studenti, diciamo dalla scuola secondaria, e invece Minecraft si presta di più per la scuola primaria ma anche secondaria di primo grado. Ovviamente sono workshop rivolti a docenti che volessero entrare per la prima volta in un mondo virtuale ed iniziare a parlare della didattica che ci si può fare.